Passiamo a vedere allora le immagini, cominciamo naturalmente con il gol dell'Atalanta al primo minuto firmato da Magrini su punizione. Al decimo si fa viva la Lazio, cross di Giordano, colpo di testa di Magno Cavallo e D'Amico tenta la conclusione al volo. Al quarantacinquesimo come detto la Lazio pareggia, punizione di D'Amico per l'Audrup, cross, testa di Giordano, Gentile smorza la palla e Fonte infila Piotti, uno a uno. E passiamo alla ripresa, siamo al trentottesimo, la Lazio costruisce una buona manovra con l'Audrup che lancia in verticale D'Amico. Il tiro in diagonale viene rispinto da Piotti con i piedi. Replica dell'Atalanta con Donadoni, il cross del quale è controllato da Spinozzi e Orsi che precedono Stromberg. L'ultimo assalto è ancora della Lazio, il tiro di Spinozzi viene alzato da Piotti sopra la traversa. Lazio-Atalanta uno a uno, linea a Valenti.